Per la 26esima giornata di campionato arriva a Redini di Cascina la capolista Sandonato Tavarnelle. Per la formazione di Mr. Bozzi titolare tra i pali Rizzato, Rossi in campo dal primo minuto a formare la linea di difesa con Bernardini, Puleo e Biagioni. Centrocampo affidato ai soliti Bardini, Carli e Geroni. Nel reparto offensivo tornare Morini dopo il turno di squalifica, insieme a Mencagli e alla Nuentri Bellucci, alla sua prima tra i grandi. Al 27esimo la rete che decide la partita. Un retropassaggio frettato permette a Mencagli, pronto in traiettoria, di recuperare palla in posizione ghiottissima e depositare il pallone alle spalle di Balli dal limite dell'area di rigore. Al 33esimo cavalcata di Russo in contropiede sulla sinistra. Dal fondo il numero 10 mette in mezzo Perzini, che a due passi dalla porta manda clamorosamente a pochi centrimetti dal palo. Pochi minuti dopo è il solito Russo a mettersi in mostra con una conclusione personale, che però finisce fuori. Sul finale di primo tempo Zini impegna Rizzato per ben due volte, prima con una conclusione dal fondo direttamente sul primo palo, poi con un calcio di punizione dalla distanza. Nella ripresa il Cascina prima deve sopperire al cambio tra i pali a causa di un infortunio per Rizzato, poi dal 69esimo i nerazzurri di Bozzi rimangono in dieci a causa dell'espulsione di Bernardini per doppia munizione, per i quali è un duro colpo, ma la combattezza e la determinazione del Cascina quest'oggi sul verde dei Redini la fanno da padrona e nel secondo tempo diventano veramente minimi gli spazi per gli ospiti. All'ottantesimo Geroni su calcio di punizione prova a sollecitare il reparto offensivo del Cascina, senza però trovare il tapin vincente dei compagni in area di rigore. Sul finale prima Zini su calcio di punizione e poi Buzzecoli da fuori provano senza successo la conclusione su Biggeri. Grazie a tutti.